calciatori a tempo indeterminato è successo ha già letto quindi già sai l'ex portiere del mainz dopo due anni di contratto alla scadenza ha preteso il contratto a tempo indeterminato ha portato la causa in tribunale ed ha vinto ma questa cosa questa cosa se fosse confermata anche in cassazione metterebbe in ginocchio i presidenti solo lì dici ma qua non si può fare siamo tranquilli vogliamo tranquillizzare non sanno vogliamo tranquillizzare maurizio zamparini altrimenti dovrebbe pagare 160 allenatori ma che stai tranquillo maurizio che ci stai seguendo fai tranquillo maurizio tutti tranquilli ragazzi introdurranno il contratta ore cioè io ti chiamo a cottimo giochi quella partita dopodiché te ne vai a casa ti richiamo va bene così correrebbero secondo me però eh ah così voglio sai che vuol dire undici proprio cani famelici rubi in mezzo al capo sì così mi richiamo vabbè abbiamo scherzato comunque questa è la notizia stai tranquilli Heinz Müller no sta in Germania ma a tempo indeterminato un saluto anche la Merkel sì la fra magna tranquillo la fra la fra così no va